Ciao a tutti, lei è Manu, LJ Ciao a tutti e io sono Bessford Siamo qui perché vorrei parlare con te di un nuovo singolo che si chiama Rock and Roller Che succede? Mi piace questa canzone sempre cantare questa canzone è una droga per me, quindi ascoltiamo il nuovo Rock and Roller uscirà con la Network Records e avremo un bellissimo remix dei nostri cari amici di Night Rock and Roller Di modi giochi